Ciao bellezze, scusate il riflesso del sole, video outfit in collaborazione con una bravissima ragazza che fa video make up molto molto belli e si chiama Fortuna Fashion in Makeup. Ciao Fortuna, grazie per la collaborazione. Allora, abbiamo deciso di fare una collaborazione outfit e make up invernale, tema invernale. Io mi sono vestita con un poncio, questo qui bellissimo, bordeaux, bordeaux, ha anche questa catenella, non so se la vedete, sì ok, la cintura. Bordeaux bellissimo, appunto fatto a triangolo, ho sotto il poncio una semplice maglia di Lidl, un pullover di Lidl, rosso, appunto molto molto semplice. Poi mi sono messa un paio di pantaloni che ho comprato da due giorni, praticamente di bershka, rosa, che sembreranno beige ma sono rosa, vedete, sono rosa, un rosa antico, rosa chiaro. Scarpe da ginnastica basse perché alte non ne ho e ho un paio di stivali ma sono da aggiustare. Come accessori pochissimi, una collana bianca, che però sotto il poncio non si vede, la vedete voi? Sì, ok. La metto sotto il poncio, la maglia appunto non ha il collo alto ma la dolce vita sì, cioè il pullover odio. Il poncio ha il collo alto ma l'altra maglia no, fortunatamente, perché due maglie col collo alto non le sopporto una sull'altra. Comunque poncio pullover, outfit molto semplice, Fortuna farà un make-up sui toni del marrone del bordeaux, io non ho pantaloni marroni quindi ho usato dei colori molto simili al suo make-up. Spero vi piaccia, orologio ovviamente, pochi bracciali e trucco questo. Vi faccio una foto, al prossimo video vado a rispondere al telefono. Grazie per la collaborazione, Fortuna, ciao! Succede sempre qualcosa nei miei video.